Caterina Iacono, una nuova avventura alle lezioni di Casa Micciola in un momento molto delicato. Parliamo della tua candidatura e della candidatura ovviamente di tutta la tua lista che sarà presentata già domani pomeriggio. Sì, domani saremo al bar Bocconcino di Piazza Bagni a Casa Micciola alle 16.30. La nostra è la presentazione di un programma e la presentazione dei nostri candidati. Abbiamo scelto il bar Bocconcino perché si trova appunto nella Piazza dei Bagni che è il luogo simbolo di ben due tragedie del 2009 e del 2022 di all'alluvione. Quindi abbiamo scelto di fare questa chiacchierata tra amici alla buona con la cittadinanza. Quindi io invito tutti coloro che vogliono conoscerci e soprattutto conoscere il nostro programma di essere presenti per un confronto dialettico e per un caffè insieme. Nello specifico quali sono gli obiettivi della tua lista? Te lo chiedo perché anche la scelta poi dei candidati, secondo quella che è stata la tua prima presentazione, non è poi così casuale. Cioè ognuno ha le sue competenze. Sì, la scelta è rigatuta su questo gruppo di amici di Casa Micciola che hanno delle competenze, come hai detto tu, specifiche per quelle che sono le esigenze che adesso il territorio desidera. Ed ecco che infatti stasera con me c'è l'amico geologo Aniello Diorio perché una delle priorità che Casa Micciola necessita è quella della messa in sicurezza del territorio. perché si è fatto tanto parlare ma poi alla fine oggi come oggi, come ci dirà, ci spiegherà Aniello, oggi come oggi abbiamo ancora delle grandi, grandissime criticità nei valloni e sulla montagna, sull'epomeo che veramente non aspettano altro che essere risolte affinché non si possa ripetere ancora nuovamente quelle tragedie che abbiamo avuto. Io non voglio essere, diciamo, fare la parte della Cassandra però io dopo il 2009 tutto quello che poi è avvenuto, io l'avevo previsto, l'ho messo sui social, ho fatto varie denunce anche io ma purtroppo sono rimaste tutte inascoltate ma non perché io abbia la palla magica ma perché sono un architetto e perché mi confronto con colleghi, con Aniello, con altri all'epoca al compianto geologo Ortolani, Franco con il quale praticamente facevamo serate intere a studiare e io dicevo all'allora sindaco di tutto quello che poi è accaduto ma perché era frutto di uno studio quindi noi vogliamo che Casamicciola venga ricostruita, venga ricostruito il nostro territorio e noi ci rimboccheremo le maniche per fare questo e credo che sia veramente da parte dei cittadini di Casamicciola devono fare obbligatoriamente delle riflessioni se queste persone che hanno amministrato fino ad oggi il paese che cosa hanno fatto affinché i morti non si ripetono e le tragedie non si ripetono a questo punto prima di entrare nella cabina elettorale si devono fare questa domanda e darsi una risposta non continuare a pensare a Casamicciola, pensare alla salute dei nostri figli, pensate a noi stessi che possiamo morire da un momento all'altro non pensare solo al clientelismo e farsi vendere il proprio voto in cambio di una qualsiasi favore possibile